Un nuovo Pullman diretto quantomeno per favorire chi parte da Mantova e poi tanti altri temi facendo il punto del raddoppio ferroviario e in particolare del servizio Pullman da Mantova a Bozzolo e da Bozzolo a Mantova ad un mese dalla sua adozione. Al momento non si sarebbero ravvisati elementi di particolare criticità vagliando suggerimenti provenienti tanto dai referenti istituzionali quanto dai cittadini. Trenord ha confermato in adesione le segnalazioni manifestate dai sindaci in particolare Giuseppe Torchio per Bozzolo e Carlo Alberto Malatesta per Marcaria oltre a Romano Municelli per Castellucchio che a partire da questo lunedì è stato anticipato l'arrivo del primo treno del mattino a Bozzolo proveniente da Cremona per consentire la partenza del bus in tempo utile per giungere a Mantova alle ore 7.32 rispetto alle 7.44 previste dalla precedente programmazione un anticipo disposto per corrispondere alle esigenze degli studenti che frequentano le scuole di Mantova. È stata ravvisata inoltre l'opportunità, come si diceva, di riservare un mezzo per ciascuna delle corse sostitutive per il collegamento diretto Bozzolo-Mantova e viceversa mantenendo per gli altri bus il percorso ordinario con tutte le fermate in merito alla quale il referente di Regione Lombardia effettuerà le necessarie verifiche tecniche anche nell'ottica di valutare sulla base delle frequentazioni per quali servizi saranno mantenuti due o più bus contemporaneamente. Importante è il lavoro che si sta sviluppando per affinare l'esperienza dei primi 21 giorni dice Giuseppe Torchio, sindaco di Bozzolo in campo via la richiesta anche della città di Mantova di un collegamento diretto con Verono-Peschiera ma soprattutto il focus è sulla velocizzazione dei rapporti, delle relazioni tra Mantova e Bozzolo vuoi con un bus diretto per accelerare i tempi vuoi con una migliore organizzazione della fermata degli autobus. Grazie.